Positivo non funzionerà Bello, bravo Vedi, sei stato sintetico Invece attraggo positività Attraggo negatività Hai detto solo positivo, negativo E questo è quello che... Sì, 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 beh, sì, beh, sì, beh, sì, sì, beh, sì, beh, sì, beh, ma com'è il pezzo per un video, beh, beh, non mi arriva, non mi arriva Vedi cosa penso Grazie a tutti